Ciao a tutti, oggi volevo mostrarvi 4 esercizi per lavorare sul rinforzo della spalla. Per eseguirli avranno bisogno di 2 dischi, in questo caso io uso i 2 kg. In pugno un disco per ogni mano, mi stendo, pancia in giù, braccia belle e tese, eseguiamo delle alzate a T. Importante, addurre le scapole, staccare il petto e movimento lento e controllato. Eseguire dalle 12 alle 15 ripetizioni per le 4 serie. Sempre disteso a terra, un disco per ogni mano, alzate a T. Capole belle adotte, vicine, movimento lento e controllato. Quattro serie da 12-15 ripetizioni. Altre due variabili sono le alzate Y e le alzate E. Anche in questo caso, 12-15 ripetizioni, 4-6. Questi esercizi possono essere utilizzati o come riscaldamento o come prevenzione. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video. Grazie.